I pensieri di Natale dei bambini delle scuole primarie pratesi appariranno come vetrofanie sugli autobus della CAP. Dopo il successo riscosso a Livorno, Pisa, Lucca e Massacarrara, l'iniziativa dell'azienda di trasporto arriva anche in città grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Prato con il patrocinio del Comune. Sono già 150 le classi tra seconde e terze delle primarie statali e paritarie della provincia di Prato che hanno aderito. Un enorme successo perché c'è stata un'adesione quasi del 80% delle classi. Si parla delle classi elementari, quindi della seconda e della terza elementare, dove i bambini esprimeranno il proprio pensierino di Natale che poi ritroveranno sugli autobus che dal 10 di dicembre saranno in giro per la città, quindi con questi piccoli pensierini applicati all'interno dei bus. Per i partecipanti CAP consegnerà gadget e biglietti che potranno essere utilizzati per le uscite didattiche, mentre la frase scelta e la foto di ogni classe sarà riportata in un attestato consegnato a tutti gli alunni al ricordo della loro partecipazione. Che ci sembra importante avere un modo nuovo per riflettere sul Natale. Il Natale deve essere un momento che unisce anche culture diverse. Tutte le classi beneficeranno di buoni sconto spendibili in cartolibrerie e negozi di vario genere. E inoltre le classi che produrranno i lavori più belli potranno usufruire anche di buoni spesa premio e ingressi omaggio in diversi musei. Sarà anche un modo per avvicinare i piccoli e i propri genitori al trasporto pubblico locale.